Oggi come sede della nostra protesta abbiamo scelto la sede del messaggero, un messaggero che è il primo quotidiano di Roma e il più venduto nella capitale. La nostra protesta che va avanti ormai da circa un anno e mezzo contro il silenzio dell'amministrazione cattivolina guidata dal sindaco Gianni Alemanno per la rotazione periodica intermunicipale ogni tre anni nei vicini urbani per garantire trasparenza e imparzialità nel spartamento delle funzioni come garantito l'articolo 97 della Costituzione italiana. Sono troppi ormai illeciti commissioni commesse perpetrati nell'elemento del proprio dovere da dipendenti degli uffici tecnici comunali e da appartenenti alla Polizia Municipale. Ed è una lotta da cui non si può prescindere una proposta che deve essere pagliata come un tavolo di concertazione. Alemanno circa un anno fa, dopo il nostro incontro con il vicecomandante di Autoporta che a nome dell'accomandante generale Angelo Giuliani ci diede disponibilità per una rotazione che dimostrò apertura verso la nostra proposta di rotazione. Abbiamo chiesto l'incontro con Gianni Alemanno che ha demandato tutto a Enrico Cavallari che era assessore al personale del Comune di Roma. Ancora da un anno aspettiamo una risposta e abbiamo deciso di intraprendere questa serie di incatenamenti, questa serie di proteste eclatanti in vari siti della capitale, istituzionali e di informazione. E oggi, ripeto, abbiamo scelto il messaggero perché rappresenta l'informazione principe sul Roma, nella nostra città, che purtroppo è disseminata di illeciti e omissioni da parte di alcune melematrice di questi comparti lavorativi e professionali, di diversi comparti istituzionali. L'apparato istituzionale non può assolutamente essere infestato da situazioni di corruzione in un momento in cui il governo con proclami incredibili e artisonanti sta parlando di corruzione nella pubblica amministrazione. Non possiamo assolutamente accettare questo tipo di comportamento e noi pensiamo che il trasferimento periodico intermunicipale sicuramente potrà favorire una situazione di non collusione sul territorio da parte dei dipendenti della Polizia Municipale e dei dipendenti degli uffici tecnici e comunali. Questa è una lotta che a questo punto il sindaco Le Mani deve darci assolutamente retta, deve assolutamente ascoltarci perché non si può assolutamente prescindere, lo ripeto, assolutamente prescindere da questa situazione. Le mele marce devono essere estirpate dalla Polizia Municipale e dagli uffici tecnici comunali anche per garantire lo stesso corpo della Polizia Municipale e questi uffici stessi perché per salvaguardare l'immagine anche di tanti e della maggioranza poi di questi dipendenti che sicuramente svolgono il proprio lavoro con abnegazione e senso del dovere. Perciò e questo va soprattutto anche al vantaggio dei cittadini che secondo l'articolo 3 della Costituzione sono tutti uguali davanti alla legge e cioè non possono essere favoritismi dovuti a indolature di povere mele marce. A questo punto riteniamo l'administrazione municipale, l'aggiunta capitolina, il sindaco le marce con complici politicamente, responsabili politicamente di eventuali compromissioni di vicini urbani e dipendenci di questi comparti lavorativi, ripeto, di questi apparati, di questi uffici in situazioni illecide di coperture, omissioni o reati penali veri e propri. Grazie.